Un'iniziativa molto importante perché si inquadra intanto in un contesto di territorio che è un territorio di grande cultura, di grande coesione sociale, di grandi tradizioni e in questo ovviamente l'iniziativa che andiamo oggi a sottoscrivere assume un valore ancora più pregnante perché poter dare l'occasione ai migranti di chiedenti asilo di poter svolgere un'attività di volontariato significa dare ovviamente un'occasione estremamente significativa e importante di integrazione a queste persone che in questa maniera possono partecipare alla vita della collettività svolgendo lavori socialmente utili quindi questo sarà sicuramente un momento di crescita, di integrazione da parte dei migranti di chiedenti asilo ma sarà, sono sicuro, anche un motivo di ulteriore crescita per la collettività.